Il prossimo avversario è Bearhugger direttamente dai Canada non possiamo colpire questo avversario in pancia bisogna colpirlo alla testa cerca di colpire la testa lui parerà così bisogna evitare quel colpo e poi picchiamolo abbiamo fatto addirittura saltare sconfitto in un round perché abbiamo dato sia dei pugni forti che dei pugni veloci quindi entrambe le cose funziona un totale di 18 pugni questo giro un super knockout che ci sta altri punti ci abbiamo messo 21 secondi e 90 abbiamo guadagnato addirittura una vita nuovo record di quanto riguarda grazie a tutti